A chiudere gli interventi di questa serata c'è, come di consueto, il moderatore a tavola valdese, il pastore Eugenio Bernardini. E anche a lui vorrei affidare due immagini. Due. Una me l'ha mostrata un fratello della chiesa di Scicli qualche ora fa, che collabora con molti altri fratelli della comunità, perché non ci sono soltanto gli operatori, ci sono i volontari, ci sono le chiese che fanno tanto. A Scicli, in questo centro di accoglienza, Casa delle Culture, c'è davvero una comunione intensa tra operatori, membri della chiesa, per dare vita a questo luogo di incontro. La foto che mi hanno mostrato è la foto di Esther Sara. Esther Sara è nata poco prima di Natale, è stata la prima bambina nata nella Casa delle Culture di Scicli. E' nata protetta da una comunità di credenti. La seconda immagine che io consegno a Eugenio è l'immagine di Terzigno, uno squallido luogo dell'Inter napoletano, dove sorge uno di questi centri improbabili di accoglienza speculativa, dove sono stati espulsi qualche settimana fa 18 migranti con dei pretesti di vario tipo. Questi 18 migranti in una provincia grande, per quanto tribolata come quella di Napoli, non trovavano dove posare il capo, per usare un'espressione impegnativa. Hanno trovato un luogo di rifugio in una chiesa evangelica. Queste sono le due immagini. Una bambina che nasce in un centro di accoglienza, dei migranti che trovano rifugio in una chiesa evangelica di Napoli. Eugenio. Grazie. La serata, questa sera, ha questo tema così drammatico e umano e cade in un'estate piena di polemiche e chiacchierici e mi è capitato di ricevere costantemente in questi mesi la domanda, ma che pensate di fare? Cioè, voi cristianucci, che cosa pensate di risolvere di un dramma così immenso? E come ci è stato detto questa sera, noi non pensiamo di risolvere niente, ma di fronte al prossimo che è davanti a te, se noi non facciamo il nostro mestiere semplice di cristiani e cristiane, che ci stiamo a fare? Se non siamo in grado di fare ciò che il maestro ci chiede di fare, soccorrere chi è nel bisogno, l'orfano e la vedova, lo straniero, dimettiamoci da questo titolo altisonante di cristiani. Ma non potete salvare mica tutti. Non possiamo salvare tutti, ma il prossimo che è davanti a noi, che è tra di noi, quello sì. E allora quei pochi che stanno nelle nostre case di accoglienza, da Scicli, nella Sicilia, col progetto della Federazione di Mediterranea Hope, ma anche in queste valli, in Val Chisone, in Val Pellice, con i progetti sostenuti dalla Diaconia Valdese, dalla CSD, in Sicilia a Vittoria, o con la collaborazione delle nostre chiese locali a Torino e a Milano, proseguendo in piccoli gruppi, in modo dignitoso, umano, integrato. Noi non possiamo salvare e aiutare tutti, ma chi è davanti a noi sì. Come quel samaritano che incontrò quella persona. Ci passò e invece che andare dall'altra parte della strada lo raccolse. Non abbiamo nessuna pretesa di risolvere i problemi, di salvare il mondo, nessuna. Ma se siamo cristiani possiamo dimetterci da questo elementare insegnamento di Gesù di soccorrere il problema. Non lo possiamo fare. E facciamo quello che possiamo fare. Di più no. Se la prefettura di Torino ci chiede di accogliere tutti i profughi che stanno arrivando alla prefettura di Torino, gli diciamo di no. Non ce la facciamo. Ma se ci chiede di aiutarli a gestire, 60, erano 50, sono già 60, non oso pensare a che numero arriveranno, in una struttura chiusa da dieci anni che però riusciamo... E noi se ce la facciamo diciamo sì. Allora, questo fatto così elementare, è incomprensibile per alcuni che si occupano di cercare appunto le soluzioni politiche. Perché sembra che noi così incentiviamo gli arrivi, i viaggi, l'invasione. Ma il nostro intendimento è soltanto questo. Pensate all'immagine della storia passata in cui tante volte ci siamo scandalizzati perché chi poteva non ha aiutato e ha chiuso le frontiere. Noi oggi non vogliamo trovarci in quella situazione quando altri dopo di noi ci diranno ma voi dove eravate e che cosa facevate? Noi facciamo solo quel piccolo poco che possiamo fare. Quello lo dobbiamo fare. Quello che non possiamo fare non lo faremo. Ma quello sì! Questo è il punto. E mi sto rendendo conto che in questo paese dove si piace tanto parlare dei massimi sistemi, anche delle soluzioni, poi alla fine, quando arrivi sul punto, chi aiuta in maniera dignitosa? Alla fine. Siamo sempre noi. Parrocchiette, piccole comunità evangeliche, persone che si mettono in gioco come la nostra comunità al Vomero che si è trovata da un momento all'altro ad aprire le porte della chiesuccia che abbiamo al Vomero per offrire le nostre panche, per far dormire 18 ragazzi. O come è successo alla chiesa valdese di Firenze qualche tempo fa che pur di non far stare un gruppo di robe numeroso per la strada ha aperto le porte della chiesa valdese di Firenze e questi hanno dormito nelle panche utilizzando l'unico bagno che avevamo a disposizione. ma quello avevamo a disposizione e quello abbiamo dato come la possibilità per questa bimba di nascere in un luogo sicuro nella Casa delle Culture di Scicli tutto lì solo questo non salveremo il mondo non risolveremo il problema che resta drammaticamente davanti a noi perché l'ha detto Marazziti qui siamo in una situazione in cui non è soltanto il fatto che ci sono i paesi poveri che non sanno come campare e vengono in Europa qui ci sono intere popolazioni che scappano da una guerra spaventosa da violenze che ci fanno tremare che non sanno più dove andare cosa fare in cui le diplomazie europee hanno fallito drammaticamente e vi racconto un paio di retroscena per farvi capire poi come nascono le cose perché oltre che l'aiuto concreto quello che possiamo fare noi come cristiani e intendo anche i cattolici quando sono cristiani questo è un problema di tutti cioè indicare delle soluzioni simbolicamente accendere dei riflettori dove c'è il buio come ci è stato detto prima sulle isole di schiavitù che ci sono anche in Europa e ci sono ancora in Italia 3 ottobre 2013 ci ricordava Marta questo evento che ha scosso le nostre coscienze o almeno le coscienze dell'Europa anche in Europa si parlò di questo morte di tantissime persone di fronte agli scogli di Lampedusa a dicembre più o meno eravamo lì a ragionare del 2013 come andare a Lampedusa per rendere Lampedusa un luogo simbolo in quei giorni in cui tutta l'Europa parlava di Lampedusa di Lampedusa un luogo su cui accendere i riflettori che si stavano già spegnendo finita la prima ondata di commozione ma noi a Lampedusa non ci siamo dicevamo non c'è una comunità evangelica non c'è nessuno è in mezzo al mare che ci andiamo a fare allora al di là di questa opera di aiuto che è il mestiere dei cristiani facciamo anche un'opera di azioni simboliche significative che possano magari accendere la speranza che la politica che le istituzioni possano trovare delle soluzioni andiamo a Lampedusa per fare cosa? per tenere i riflettori accesi su quel luogo e noi lì ci siamo andati e ci siamo rimasti Marta siamo gli unici vero? tutti gli altri sono andati turismo politico ideologico giornalistico hanno riempito gli alberghi sono andati a mangiare il pesce nei ristoranti hanno fatto le loro fotografie hanno fatto le interviste hanno scritto i libri hanno scritto i rapporti e se ne sono andati noi zitti abbiamo aperto il nostro ufficetto siamo andati alla parrocchia ci siamo messi d'accordo con la Caritas Colvesco e abbiamo fatto il nostro piccolo lavoro di servizio di aiuto e di mantenere accesi i riflettori su questo dramma che non sappiamo come risolvere ma sappiamo che va affrontato è nato lì pochi mesi dopo abbiamo messo in piedi questo intervento che non risolve niente ma ha un significato di indicare e abbiamo scelto questo titolo poi non accontentati del fatto che c'era questo osservatorio abbiamo pensato dobbiamo fare qualcosa di pratico e abbiamo messo in gioco la nostra piccola comunità metodista di Scicli all'inizio terrorizzata giovanella è così ma qui noi come facciamo dove ma non c'è come noi quattro gatti ma siamo oh è così più o meno no terrorizzati e beh oggi oggi stanno offrendo un servizio di supporto importante naturalmente non da soli come rezziti ci siamo trovati poi l'anno scorso alla fine di settembre all'inizio di ottobre ad Anversa in Belgio l'occasione era la memoria delle trincee e dei gas lì vicino ad Anversa in Belgio della prima guerra mondiale per i 60 anni dell'inizio della grande guerra e discutevamo delle responsabilità dell'Europa anche nella creazione di questi flussi migratori dall'Ord Africa le cosiddette primavere arabe le illusioni che sono state date sul fatto che ci potessero essere dei cambiamenti che dessero stabilità a questi paesi con più democrazia il disastro che è accaduto dopo e poi la completa sparizione di un'iniziativa politica e dicevamo noi cristianucci il problema non lo risolviamo ma ci possiamo mettere insieme per dare un'indicazione che è possibile pensare a salvare almeno qualcuno a denunciare questo sistema del traffico a mettere di fronte l'Europa di fronte alle sue responsabilità facciamo noi un corridoio umanitario vediamo se ce lo fanno fare indicando solo non la soluzione ma delle soluzioni cioè ci siamo messi lì nella speranza di accendere dei riflettori mantenere della luce indicare delle possibili soluzioni e poi ci fermiamo allora chi mi chiede ma voi che pensate di fare mica volete risolvere i problemi possiamo dare posto a 60 milioni di persone che si muovono nel mondo no ma noi come cristiani ci muoviamo nella direzione di ciò che ci sembra giusto fare secondo le nostre possibilità e sapete che c'è oggi al sinodo abbiamo due testimonianze di invitati ospiti ecumenici il primo il pastore metodista della Gran Bretagna che ci dice pochi giorni fa le chiese metodiste di Gran Bretagna hanno fatto un appello forte verso i propri governanti per chiedere un atteggiamento una politica più responsabile verso questo problema perché la politica degli occhi chiusi delle tre scimmiette io non parlo io non vedo io non sento moltiplicano il problema e poi è arrivata la rappresentante delle chiese della Germania che parlava a nome delle chiese regionali di Vesfalia e Renania che ci dice la stessa cosa le nostre chiese si stanno muovendo per chiedere al governo tedesco un'azione più responsabile su questo problema non sappiamo quale sarà la soluzione ma vedete che c'è un'iniziativa delle chiese cristiane date per defunte nell'Europa secolarizzata e che invece a quanto pare ogni tanto azzeccano anche qualche cosa giusta che stanno capendo che così non si può andare avanti noi non risolveremo il problema non sappiamo neppure da che parte prenderlo ma sappiamo che così non si può andare avanti e quel poco che possiamo fare stiamo cercando di farlo ecco questo è il messaggio che credo noi dobbiamo dare nella convinzione che ciascuno debba fare la propria parte noi facciamo quella come la possiamo fare siamo in grado di fare come l'abbiamo capita che ci viene dall'insegnamento che abbiamo ricevuto da Gesù e per cui indegnamente ci definiamo ci confessiamo cristiani è una necessità dalla quale credo non possiamo svicolare mi colpisce che un laico politico cattolico cattolicissimo come Mario Marazziti in fondo parla la nostra stessa lingua perché su questo punto luterani riformati valdesi metodisti cattolici che parlano italiano tedesco inglese poi alla fine si ritrovano perché questo è il linguaggio della fede speriamo di riuscire a farlo capire i nostri decisori politici speriamo di riuscire a farlo capire a chi fa comunicazione aiutateci 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 a non parlare di questo dramma umano soltanto per vendere più giornali per alzare l'audience dei vostri mezzi perché voi portate una responsabilità grandissima nel trovare o non trovare delle soluzioni nel dare o non dare coraggio a chi deve prendere delle decisioni fate attenzione noi faremo la nostra parte con convinzione avendo fiducia che una soluzione come accaduto nel passato alla fine dovrà essere trovata grazie e continuiamo su questa strada grazie 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 grazie